buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo appuntamento medio prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare i like e attivare il campanellina per essere sempre aggiornati ora andiamo ad analizzare le temperature minime del 31 dicembre perché appunto risulteranno veramente molto basse in particolare a nord ovest avremo punti anche di 5 6 gradi sotto 0 a torino 4 gradi sotto 0 ad asti ed alessandria 3 gradi sotto 0 ad aosta 3 gradi sotto 0 a milano 2 3 gradi sotto 0 a bergamo fino a 4 5 gradi sotto 0 a varese con punte anche di 5 6 gradi sotto 0 a bolzano tra gli 0 e meno 2 gradi a trento tra gli 0 e meno 3 gradi a belluno circa 2 gradi a pordenone padova circa un grado a verona vicenza treviso e udine con una minima intorno ai 0 gradi a bologna per ora è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento meteo alla prossima